Soffia un vento a Parigi stasera, un vento che vento non è. Sono mille sospiri diamanti perduti così come noi. Sono frasi d'amore pensate ma dette soltanto a metà. E ogni sera dall'ultima sera tornano a me. Grazie a tutti. 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 Tra poco toccherà anche a te. Grazie a tutti. 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 Aspetta a tutti. Un momento. e a tutti. Grazie 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 a tutti. And TODDC Constituccio. Perchè non le trovate ancora. Non l'hanno più ritrovata. No, pare che sia sposata nel sud America. E adesso pare che abbia una nidiata di figli. Capisci? Noo. E lui lo sa che lei... Noo non gliel'abbiamo detto. Nel frattempo lui per consolarsi racconta i suoi guai a ogni donna che incontra... Allora, capisci? Se ne trovasse almeno una... No, ma che sembra che se ne vada a cercare proprio nel mazzo. Nessuna di diretta. Vabbè, se mi sbrigo ripasso, eh? Sì. Tornatene a letto. Sì, sì, ma tu copriti che fa freddo. Senta tranquilla. Ah, sì, è vero, fa freddo. Dai, vedi. Ciao. Ciao, Magri. Ciao. Ciao. Buonasera, capo. Cioè, buongiorno. Sì, buonanotte. Prego. Il dottor Boronda, il pronto soccorso. Il medico legale non era a casa. Dov'è? Ah, qui, prego. Chi l'ha trovato? Questi due agenti, durante il loro giro di ronda, erano le 3.12. Non ho osato muoverlo prima dell'arrivo della magistratura, ma penso trattarsi di frattura del cranio, provocata da diversi colpi. Del cranio? Ma si ha tutta la faccia sfracellata. Non so che cosa stabilirà l'autopsia, ma io ho l'impressione che colpi al viso siano stati inferti dopo, quando era già morto. Per non farlo riconoscere? Già. Vede, capo, c'è qualcosa di strano, secondo me, in questa faccenda. Ha visto? Non ci sono tracce di sangue. Anch'io l'ho notato. Eppure con quelle ferite dovrebbe averne perso un bel po'. Vuol dire che qui ce l'hanno portato dopo. E certamente con una macchina. Lì sul viale ci sono tracce di una frenata brusca. Magari è la stessa macchina usata per la rapina all'ufficio postale. Ieri sera i miei uomini l'hanno trovata qui, da queste parti. Non può essere quella, capo. Queste tracce sono ancora abbastanza fresche, non più di un'ora o due fa. Ah, venga, venga, dottore. Ecco il giudice che arriva. Buonasera. Dammi la torcia. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Justine quand'è? Sono io. Allora sono per lei. Porta via quella roba. Justine quand'è? È lei o no? Ma chi li manda? Io, mamma. Oh, no, re! Hai fatto scappare Totò? Ho aperto a questo giovanotto, si vede che l'ha sentito salire. Vieni, prendi. Grazie. Non eri fuori Parigi? Si vede che sono tornato. È arrivata molta posta? Tutta lì, è il cassetto. Si è rotto un'altra volta il fornello. Devo ripararla perché è vecchia, ma è la più buona. Grazie dei fiori. Avevo dimenticato che domani è il mio copreanno. Ah, lo vedo. Non sai nemmeno in che giorno vivi. Da quando sono partito non hai più staccato i foglietti nel calendario. Ma chi li hai mandati a fare i fiori se tornavi? Beh, non credevo di tornare prima di domani. Ti fermi a pranzo? C'è il bollito al fuoco? No. Oggi no. Tra qualche giorno, eh. Ma cos'hai? È venuto uno a cercarti. Dice che ti conosce. Chi è? Quando è venuto? Un'ora fa, è di là. Ti aspetta. In camera mia? E che ci fa lì? Mi pareva di aver sentito odore di pipa. Ma guarda cosa ho trovato nella tua camera, guandè. Quando si dice il caso, guarda, qui su questa rivista si sono tutte le piante e le fotografie degli interni della villa Moplezir. Ti ricordi a Versailles, dove rubarono tutti quei gioielli cinque anni fa? Io non c'entravo. Sicuro? Tanto è vero che lo hanno assolto. Già, per insufficienza di prove. Ah beh, non è mica colpa mia. Stava a lei trovarle. Però, questa rivista... No, signor commissario. Lei lo sa meglio di me che questa non è una prova. Solo a Parigi ne venderanno 200.000 copie. Pare che anche il signor procuratore la legga. Perché mi dai del lei? Lui ti dà detto... Ma... Ma è il commissario Megri? Megri? Quello che ti ha ficcato in galera tre volte. No, mamma. In galera è un pezzo che non ci vado. Eh sì. Dai tempi della Svizzera. Da quando il signor commissario si occupa di me si può dire che io non ho più avuto fastidio. Beh, due o tre volte. Poi ogni volta per 15 giorni. Beh, 30 al massimo. Giusto il tempo di rendersi conto che io non c'entravo. Perché io sono soltanto un onesto commerciante per corrispondenza. Già. Di Franco Bolli? Appunto. Solo che ogni volta che commettono un furto un po' particolare il signor commissario mi fa l'onore di beccarmi. Anche questa volta, vero? Cosa è successo? Beh. Ne riparleremo alla centrale. Non può arrestarlo, non può arrestarlo. Che ha fatto? Mamma. Ma non mi arresta mica. È un invito. Vero? Devo prepararti la valiggetta. Eh, sì, mamma, è meglio. Io intanto offro un bicchierino al signor commissario. Ah, sì. Non c'è che del Kirsch? No, grazie. Mamma è rimasta legata alle sue abitudini svizzere. Perché ce l'ha sempre con mio figlio? E lo lasci stare? Tanto lo sa che per lui non la spunta. Si direbbe sia fiera di lui. Certo che sono fiera. È un ragazzo in gamba. Beh. Come ha fatto a sapere che mi avrebbe trovato? È più di un mese che sono fuori di casa e fino a questa mattina neanche io sapevo che sarei tornato. Eh, stamattina alle otto tu sei stato visto nel quartiere. Sì, sono andato dal macellaio, dal panettiere a pagare i conti. Ma per chi non mi ha fatto fermare per la strada invece di venire qui? Eh, per rivedere in casa tua e conoscere tua madre. L'altra volta che sono venuto qui, cinque anni fa, lei non c'era. Sì, era in Svizzera. La mia sorella. Ascolta, quando è? Io sono qui per incarico del direttore della polizia giudiziaria. E' il successo che durante una breve assenza dei proprietari, signori Morò, il loro appartamento sia stato ripulito di tutti i preziosi. E siccome si pensa a te... Oh, no, no, vedremo, vedremo, adesso vedremo. Ogni modo, siccome si pensa a te, vedi, siccome mi si ritiene uno specialista, ecco, delle tue imprese, il direttore mi ha pregato di dare una mano e io ho accettato. Ma non tanto per la faccenda di questo furto che andrà come andrà e che comunque non è affidato a me. Sono qui per un'altra questione che mi interessa più da vicino. Tu hai visto ultimamente Fernand? Fernand? E chi è Fernand? Andiamo su, non fare il finto tonto con me, sai benissimo chi è. È stato in guardina con te un anno fa quando fossi fermato per il furto degli arazzi, andiamo. Ah, Fernand, il gangster. Ah, signor commissario, non penserà chi abbia a che fare con quello? O con qualsiasi altro? Lo so, lo so che fai tutto da solo tu. Eh, ma io ho buoni motivi per credere che lui ti abbia avvicinato. Vedi, Fernand è stato visto da queste parti. È emissiato in qualcosa di grosso? Non mi hai ancora risposto però, eh? No, non l'ho visto. Veramente? Potresti però dirmi quello che hai saputo di Fernand nei giorni che hai trascorso in cella con lui? È passato tanto di quel tempo. Vabbè, vabbè, ma qualche cosa ricorderai delle sue abitudini, non so. Ah sì, sì. Ricordo che aveva un piede che gli faceva molto male, questo lo ricordo. Bada quando è... Basterebbe che lo dicessi io, che sei implicato con Fernand per farti passare i tuoi più brutti momenti. E lo farò. C'è appena intuisco che è vero qualcosa di quello che tu negli. Io non so niente, signor commissario. E poi lei lo sa. Io non sono una spia. È per ora comunque non accennare in polizia che sono venuto per questo, eh? Per il tuo bene. Andiamo? Mamma! No, che fai? Credi che tu ti apri i tuoi gusti? Tienila te, è meglio. E stai attento a Totò, non lo farò uscire per la strada con tutte quelle macchine. Non dipende da me? È proprio ridotta male, eh? Eh sì. Il fornello è spaccato e la colla non tiene. Io avevo pensato di legarla con un filo di rame, eh? Come? Ah, sì. Eh, mi dispiace buttarla via. Ci sono affezionato. Eh beh, ti capisco. I miei rispetti, signora Quandè? Ma che, signora Quandè? Mi chiamo Giustin. Buongiorno. Non ha fatto storie, mi ha seguito tranquillo come se andassimo a fare una passeggiata invece che alla polizia. Però lei, capo, aveva capito subito che Quandè non c'entrava con il furto ai morò. Beh, mi pareva improbabile. Non è nel suo stile. Interessante. Veramente interessante il fascicolo delle imprese o delle presunte imprese di questo ladro solitario. C'è una cosa, però. Lei, onore Quandè, qui risulta nato a Senat-Clenz, cantone di Lausanne, Svizzera. Eppure cittadino francese, come mai? Naturalizzato. Com'è possibile? A 17 anni in Svizzera è stato rinchiuso per furto in un correzionale. Con questi precedenti come ha ottenuto la naturalizzazione? Beh, è scritto lì, legione straniera. Sì. Evaso dal correzionale sono venuto in Francia. E per evitare di essere rimpatriato mi sono arruolato nella legione. Cinque anni, eh? Africa, Indocina, tutto periodo di guerra. Per questo ho potuto ottenere la naturalizzazione. Le mie note caratteristiche erano ottime. Certo, tranne un tentativo di diserzione. 24 ore. Mi ripescarono subito. Chiaro direttore, gli domandi perché ha disertato? Beh, non potevo più. Non poteva più che cosa? Beh, rispondi. Non potevi più che cosa, eh? Non potevo più. Il signor commissario mi capisce. Ma che vuol dire? Beh, sarebbe un discorso lungo. A me un po'... No, ma che... Quel tatuaggio che è sul braccio? Che cos'è? Un ipocampo, si direbbe. Segno abbastanza rivelatore della personalità, diciamo, particolare dell'individuo. L'avevo mai visto, Megre? Sì, c'è anche la fotografia lì nel fascicolo. E c'è scritto che gliel'ha fatto un compagno alla legione. Ecco. Non ti ho mai domandato, però, perché te lo sei fatto fare. Cos'è? Ti piacciono i cavalli marini? Ne ho visto uno soltanto. Dove? A Lausanna. Lausanna? Lausanna dove? Nella casa di una donna. Ma a che cosa serve parlare di cavalli marini? A scoprire chi è il suo ladro, signora. Che donna era? Una donna. Ma cos'era? La prima... La ragazza prima di entrare nel riformatorio? Sì. E lei aveva un cavallo marino disseccato? Sì. Era il suo portafortuna. E per portafortuna o per ricordo te lo sei fatto tatuare? Così? Ne avremo ancora per molto. Siedi, siedi. Permette, direttore. Hai conosciuto molte altre donne? No. E quella invece ti è rimasta a lungo nel cuore, vero? Amadio non voleva fare delle domande a quand'è? Allora. Finita la ferma nella legione, ti sei stabilito a Parigi? Sì. Ho lavorato per due anni presso un fabbro, vicino Plas d'Italia. Specializzato in serrature. Serrande, serrature. Ecco, di sicurezza. E tra l'altro ha anche lavorato in Svizzera in una fabbrica di casseforti. Non c'è niente di male? No. Ma è un precedente interessante. Non è vero, Amadio? E dopo il fabbro? Ho messo su un piccolo commercio di franco bolli. Ah, hai un negozio? No, no, no. Lavoro per corrispondenza. Compero per conto di altri. E a volte faccio da tramite tra chi vuol comperare e chi vuol vendere. E i clienti come li trovi? Con le inserzioni sui giornali. E' così che mio marito gli ha scritto. Lei, signor Moreau, fa collezione di franco bolli? Francia e Svizzera soltanto. Ed è così che quell'uomo è entrato in casa nostra. Quando? Nella seconda quindicina di settembre. Mio marito aveva letto l'annuncio e gli ha scritto che cosa desiderava. Lui è venuto quando mio marito era partito. Lo fece entrare nel salotto, nello studio. Mai più avrei pensato che fosse venuto per preparare il colpo. Quale colpo? Di cosa mi si accusa? Di furto in casa della signora. Io? Non vorrà negare di essere stato in casa nostra. Era vestito di grigio e l'impermeabile sul braccio. Ah, sì, 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 sì. Adesso ricordo, adesso ricordo. E' una casa dalle parti di Saint-Sulpice. E' il nome? Quello non lo ricordo. Moreau. Joseph Moreau. Rue Princesse d'Echin. Già, sì. Quindi ammette di essere stato in casa dei signori Moreau? Sì, ma per offrire dei francobolli, non per rubare. Va bene, questo lo vedremo. Ma perché? Che prove avete per accusarmi? Le troveremo, non dubitare. Ah, bene. E intanto su che basi mi accusate? Senti, Quande, ci conosciamo bene noi due. Non mi direi che sei andato a casa di questi signori per vendere dei francobolli. In casa tua ci saranno, signor no, cento francobolli. Ma gliel'ho detto, signor commissario, non ho merce mia, io faccio da intermediario. E poi io e mia madre abbiamo bisogno di così poco. E dove tieni i tuoi risparmi? I miei risparmi? Quello che guadagno mi serve per vivere. Avrai qualche conto in banca, sotto falso nome? No. Lo domandi al signor commissario, lui lo sa. Ha già fatto indagini presso le banche. E come ti era avanti tua madre quando tu stai assente da Parigi un mese, due mesi? Beh, i fornitori le fanno credito e quando arrivo io pago. Ah, va bene. E a chi vendi il bottino dei tuoi furti? A nessuno. Proprio lei, signor commissario, mi fa questa domanda. Non tenti di fare l'ingenuo. È stato arrestato più volte per furto. Sì, ma condannato una volta soltanto. E solo su indizi. È rilasciato tre mesi prima del termine, per buona condotta. Certo, certo. Soldato esemplare, detenuto modello. Però ogni tanto dobbiamo metterlo dentro. Non è mica colpa mia. Vogliamo chiamarla sfortuna? Io non vorrei offendere nessuno parlando di partito preso. Non farò la commedia quando è su, anche se questi signori non ti conoscono come me. Hanno il tuo fascicolo sotto gli occhi, con tutte le tue prodette. Ecco qua, guarda qui, 1950. Accusato di furto nella villa Champignon, sei milioni di allora. Dove hai messo tutti quei soldi? Ma io non ne ho soldi, gliel'ho detto, signor commissario. Rue Tournelle, la collezione di gioielli antichi del Marchese Langlois. Nel 65 e poi il furto a Versailles. Ecco, e qui c'è la rivista che ho trovato a casa tua. Ecco, con tutti i piani e le foto della villa. Qui, ecco. Adesso perché ha trovato una rivista a casa mia. Basta! Questi furti dei quali sei accusato ufficialmente, per cui sei stato processato. Ma lì sono almeno annotati altri sei grossi furti che quasi certamente sono opera tua. E perché opera mia? Perché? Perché portano tutti la tua firma. Tutti commessi nelle stesse circostanze, con la stessa arte, guarda, vorrei dire. Cioè? Eh, cioè. Senza segno di scasso, di effrazioni, violenze, porte sfondate, vetri rotti, spargimento di sangue. Senza tracce, senza tracce né impronte. Il signore entrava volando dal buco della serratura? No, 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 Mattia, volando no, ma lui sa aprire le porte. Eh, è regola d'arte. Vero, quand'è? Ma il suo segno caratteristico è un altro. Qual è? Lui compie i suoi furti soltanto quando è ben certo che i padroni di casa sono presenti. Tutti i nuovi furti nei quali è stato implicato sono avvenuti mentre le vittime erano in casa. Padroni e servitù. E non lo hanno mai sentito? Mai. Allora, come sono nati i sospetti su di lui? Eh, beh, ogni volta dopo lunghe indagini ho scoperto che il signor Quand'è aveva frequentato per settimane, per mesi il quartiere. Due volte ha affittato una camera mobiliata di fronte alla casa dove è avvenuto il furto, con una finestra che era ben disposta, sì, per osservare, conoscere i luoghi, le future vittime. È vero? È vero, Quand'è? Signor Commissario, io le ho spiegato ogni volta per quale ragioni occupavo temporaneamente quei luoghi. Temporaneamente. Eh sì, entro a certi limiti hai ragione di dirti sfortunato. Ogni volta che succede un grosso furto mi viene fatto di inciampare in te che temporaneamente non abiti con tua madre. Solo che questa volta l'abitazione dei signori Morò non ha alberghetti o case d'affitto all'e vicino. Già, già, no, no, appunto. E noi non eravamo in casa al momento del furto, nemmeno una servitù. E il ladro è entrato ugualmente, signora Morò, scassinando malamente la serratura, rompendo un vetro, lasciando tracce impronte. Ma lo stanno accusando o difendendo? Non gli avete nemmeno chiesto dove era la sera del furto, il 22 ottobre? Signora, era inutile. Perché lo so da questa cartolina che ha spedito a sua madre da Orléans. Eccola qui. Dove l'ha trovata? L'ho presa poco fa a casa tua. No, una cartolina. Per quello che valgono simili ali. Sì, valgono poco, d'accordo, da soli, ma con il resto... Allora, per concludere. Signor direttore, per concludere, vi dirò che lei, dietro richiesta del collega Amadieu, ha voluto interrogare il pregiudicato onorei Quandè in seguito alla segnalazione della signora Morò. Io ho rintracciato l'individuo, ve l'ho portato, voi l'avete interrogato, non aspetta a me adesso tirare delle conclusioni. Al più posso esprimere un parere, ma l'ho già fatto prima con lei e col collega Amadieu. Ma insomma, sarebbe innocente adesso. Luca? Sì, capo. Porta via Quandè. Sì. Andiamo? Tu? Signor direttore, signor commissario. Devo firmare il verbale? Sì, fila, fila. Arrivederla, signor commissario. Spero di no, per il tuo bene. Bossa. E adesso noi che facciamo? Abbiate pazienza, scusateci. Vi convocaremo noi domani o al più presto. Signora. Signore, prego. Sei in decenza. Non ti parlo a un altro. Ah, è qui. Ah, signor procuratore. Per questo il suo telefono non risponde. Mi spiace se sia dovuto disturbare, signor procuratore. Stavamo occupandoci del furto in rue Française. Abbiamo interrogato onore Quandè, forse lei lo ricorda. Sì, sì, lo ricordo. Direttore, commissario Magret, volete favorire nel mio ufficio? Tutto bene. Io e il sostituto Carnavel avremo delle pratiche urgenti da rivedere. Vi aspetto. Io? Capitano che sia disposto ad andare avanti così, piuttosto dalle dimissioni. In confidenza, Megret. Lo crede davvero innocente? Beh, in questo caso è probabile. È uno che va preso con le mani nel sacco, altrimenti... Non sarebbe prudente tenerlo sotto sorveglianza? Sì, magari. Si potrebbe scoprire quello che sta macchinando, ma con quali uomini e contro gli ordini del giudice, no. Ma semmai aspetta lei che conduce l'inchiesta. Non ho uomini neanch'io. Poi se fosse la pista sbagliata. Sbagliata? È incerta, ecco. Vabbè, ci telefoneremo. D'accordo. Signor direttore, vogliamo andare? Sì, sì. Andiamo a sentirci il resto. Sì, sì. Avanti. Prego. Un'ora fa, il signor ministro mi ha chiamato al telefono per farmi questa unica domanda. Signor procuratore, ha letto i giornali? Bene. È una domanda che io giro a voi. I giornali, li avete letti? È un coro generale, unanime. Parigi, in mano ai banditi. Parigi, la nuova Chicago. Bilancio di sei mesi. Sei banche assaltate, otto rapine, cinque tranquilli cittadini uccisi a colpi di mitra. Che aspetta la magistratura? La polizia che fa? Signori, sappiate che sono vivamente sorpreso nel constatare che in momenti come questi, funzionari del vostro grado e della vostra responsabilità, perdano il loro tempo in indagini di importanza secondaria. Sì, dando la caccia ad un ladruncolo. Indagini poiché a loro non competono, anche perché questa procura le ha esplicitamente affidate ad altri. Il commissario del quartiere aveva chiesto l'intervento di Maigret. Eccole. Sono queste le indagini che la procura ha affidata al commissario Maigret e non la ricerca dei soliti ignoti. Bene. E adesso, signori, che rispondiamo a questa domanda? 300 uomini stanno battendo Parigi e il circondario, casa per casa. E i risultati? Dobbiamo affidarci al caso e al fiuto dei nostri uomini. Non abbiamo, tracce sicure, solo vaghi indizi sull'aspetto dei banditi. Agiscono sempre mascherati e ogni volta cambia il gruppo che opera. A credit leonei erano in tre, alti e magri. A compoire le compi, uno solo era altro. Insomma, brancoliamo nel buio. E intanto lo scandalo dilaga. E la stampa attacca il governo, irride alla magistratura. Beh, non è proprio esatto dire che brancoliamo nel buio. Perché? Avete trovato qualche indizio? Indizi precisi no. Ma il commissario Maigret sta seguendo una pista. Ah, senza informarmi. Non è ancora una pista, signor procuratore. Fino a questo momento non è che una mia supposizione, ecco. Perché vedi, una volta i banditi, i grandi ladri, venivano fuori da ambienti che conosciamo bene noi. Non ci voleva molto individuarli. Si riconoscevano dai modi, dalla faccia, dal vestire. Oggi le peggiori imprese sono compiute da gente insospettata. Ti trovi di fronte gente che sembra in tutto e per tutto rispettabile. Figli di papà, ragazzetti di ottima famiglia. Una volta invece si andava a colpo sicuro, signor procuratore. È così, proprio così. Dieci anni fa, in meno di un mese, arrestammo l'intera banda che aveva fatto il colpo alla gioielleria Chauvin. Eh, appunto. Adesso qualsiasi persona che si incontra per strada può essere il criminale che cerchiamo. Tra milioni di persone. Ma queste sono le cose che... Sono sei mesi. Diglio, sono sei mesi che... Sono sei mesi che cerchiamo fermo, no? Non siamo riusciti a sapere neppure, se non dico a Parigi, ma in Francia addirittura. Pure basterebbe averne uno fra le mani e interrogarlo, come dico io. Caro Megre, la legge... Ah, la legge, la legge. Tutte queste circolari, poi superiori, contro superiori. Megre! Chiedo scusa, signor procuratore. Chi è questo Fernan? Uno della banda della gioielleria Chauvin. È il capo? No, no, no. Il capo è ancora dentro. Fernan era un suo logotenente, è uscito di prigione otto mesi fa. E sei mesi fa, subito dopo la prima grossa rapina è sparito. Non se ne sa più niente. Avete prove che faccia parte di questa nuova banda? No, prove no. E allora? E allora, certi particolari di tutte queste rapine, vero, signor direttore? Certo. Eh, ricordano talmente i metodi della vecchia banda che... Sono certo che qualcuno di loro dirige anche questa. E l'unico in grado di farlo, vede, signor procuratore, è Fernan. È a lui che dobbiamo arrivare, a lui che dobbiamo dare la caccia. Beh, ecco. D'ogni modo, quali sono gli ordini? Sgominare questa banda. E al più presto. Faremo del nostro meglio, signor procuratore. Mi fido di lei. Grazie. Gente sorpassata. Trent'anni fa facevano servizio per le strade. Gente sorpassata, eh? Credeva non l'avessi sentito. E del resto non ci vuol molto capire come la pensano. Naturalmente era superfluo dire al procuratore che speravo di avere da quand'è qualche notizia su Fernan. Però quand'è si è rifiutato di dare informazioni. Già, ma forse non ne aveva. Avanti, questo è il caffellare. Avanti, avanti. Grazie, grazie. Vai, vai, chiudi la porta. Ecco, grazie, capo. Ecco, di largo. Ecco. Ecco, grazie. Ecco, metto qui il croissant, eh? Sì, grazie. Quanto zucchero, capo? Tre abbondanti, solido. Perché, vedi, io non escludo che quand'è possa avere cambiato genere di attività, ma mi secca ammettere di aver avuto sul suo conto per tanti anni un'opinione inesatta, capisci? Vabbè, in ogni caso, capo, sono saltati fuori tanti di quegli indizi che è quasi quasi l'impatto di pensarlo uno dei rapinatori, eh? Eh, questo è il punto, Luca. Forse sono troppi, troppi gli indizi perché si possa concatenarli. Vabbè, sarà. Per esempio, quand'è? Era vestito come uno dei rapinatori. Come indizio mi pare piuttosto pesante, eh? Vabbè, Luca, va bene. Passi, passi per il vestito. Ma, anche per la macchina della banda trovata al Bois, ma quello che mi sembra sorprendente è che avevo perso di vista quand'è da un pezzo, hai capito? E neanche a farlo apposta, proprio ieri mattina mi tocca interrogarlo sul furto ai muro. Io lo rilascio, lui ritorna a casa, si cambia d'abito, è tutto elegante, va a raffinare l'ufficio postale insieme ai suoi nuovi soci. Ma andiamo, è assurdo, è pazzesco questo proprio. Ma andiamo, è assurdo, è assurdo, è assurdo, è assurdo. L'uomo che ha svaliggiato la cassaforte. Era questo? No. Questo? No, no. Quest'altro, guardi bene. Ma non sono la stessa persona? Le risponda alle domande senza commenti. Era questo? Ma come faccio a saperlo? Io gliel'ho detto. Erano tutti e tre mascherati. Uno aveva un vestito scuro. Sì, sì, scuro a righe. Questo l'ha già detto ed è averbale. Luca? Sì, Campo. Continua tu. Prego, si segue. Dove si mette a sedere? Lascia tutto come sta, eh? Queste sono impronte di donna, certamente. Trovate qualche cosa, Merce? Ci sono centinaia di impronte, sarà difficile provarne qualcosa. Beh, non faccia poi fotografare questa parete con l'orologio, eh? Le fotografie che siano riprese sia dalla cassa sia dal posto di delle raccomandate, eh? Sì. Sì, perché con tanti testimoni non si riesce a sapere dove stava quello che ha sparato, eh? Fotografo. Fotografo. Dunque, loro erano presenti, quando... Signor procuratore, signor sostituto, dottore... E adesso, Megret? E' convinto dalla gravità della situazione? Non sono passate neanche quattro ore del nostro colloquio di stamane? Ed ecco, guardi qua. Pareva che ce lo sentissimo. Ebbè, ci sono certe cose che stanno nell'aria, ma non tutti hanno il dono di percepirle. Avete trovato qualche indizio? Ben poco, sì, in questo momento. Nessuna traccia del suo Fernand? No, per ora no. C'è stata una vittima? Sì, un morto. Dov'è il corpo? È lì, dottore. Eccolo lì. Se permettete... Prego, prego, anzi. Desidero conoscere l'esito del suo esame. E allora? Come si sono svolti i fatti? Signori, vi prego, io devo andare a casa, ho lasciato i bambini... Indietro, indietro, trattena questa donna. Signor procuratore, signor sostituto. È avvenuto due ore fa, vero? Sì, circa. Erano le una e un quarto precise, una rattica di mitra. Ha fermato l'orologio proprio in quell'istante. Per entrati, i tre banditi hanno subito sparato per intimorire la gente. Due ore fa? Sì. E i giornali si sono già tuffati sulla notizia. Ma come... Come può entrarci quando è in questa storia? Ma forse il morto non è lui. Non può essere lui. Avanti. Buongiorno, capo. Dico, ha letto i giornali? Ti aspettavo a te che me li portassi. Lei mi dico la sigaretta di bocca. Capo, ha visto il giornale? Fuori! Capo via, eh. Via. Un momento. Il bandito Fernand è a Parigi. La polizia lo ignora. Chi ha passato questa notizia ai giornali? Ah, nessuno di noi. Eravamo solo in tre a sapere che Fernand ieri era a Parigi. In tre! Io, te! E la gente che ci accompagnava. E l'autista della macchina. Che si è fermato il rimuffettare proprio davanti alla casa dove abita la madre di Guandè. Sì, capo, ma lo sapeva. Il tassista. Due donne. Sta bene. E un ragazzo che passavano di là. E un ragazzo. Poi la cassiera. E tutti i camerieri del bar dove è entrato. Sì, ma bene, ma basta. In più i suoi complici se li aspettavano da qualche parte. E va a sapere chi è stato a soffiare la notizia, Giorno? E non sbrigare così! No, volevo dire, va a sapere chi è stato a soffiare la notizia. Stai calmo, stai calmo, stai calmo. E adesso... Adesso chiuderà il finimondo col procuratore. Capo, chissà forse bisognava avvertirlo subito che l'avevamo rintracciato. Ah sì? Ah sì, perché poi il procuratore o quel baccalà del suo sostituto... Cosa stia da ridere? Non c'è niente da ridere. O quel baccalà del suo sostituto. Se se prendersi la soddisfazione di ordinare una rettata generale facendomi scappare Fernand magari per sempre. Vedrai se non è proprio quello che faranno adesso. A proposito, fatti dare della scientifica giacca un campione del vestito che portava il morto di stanotte. Testimoni della rapina di ieri hanno detto che uno dei banditi aveva un vestito scuro a Righine. Vedi, se lo riconoscono... Ma capo, avevamo stabilito che il morto è... Sì, lo so, lo so, lo so. Avevamo stabilito. Avevamo. Avevamo. Ma non era il suo genere di attività. Potrei essermi sbagliato. Non riconoscere il cadavere. Comunque se ne sta occupando Fiumel e in giornata dovrebbe... Avatti. Ah, proprio tu. E allora? Aveva ragione lei, capo. Sul braccio sinistro del morto c'è tatuato un cavalluccio marino. Dunque era quando piccarsi in un tale pasticcio proprio lui. Rapina a mano armata, oppure Fernand l'ha fatto fuori soltanto perché... Perché poi... Oppure... Beh, ma tu non sei ancora andato a dormire? Sei dovuto aspettare il medico legale, la scientifica, fare quattro verbali. Vabbè, siedi e racconta. Siedi, siedi qua. Ecco. Anche il medico legale dice che è stato ucciso con parecchi colpi al cranio e che è stato portato al buado o fu morto. Ho capito. Che c'è? Il signor procuratore... Scusi, il signor procuratore è arrivato e l'aspetta nel suo ufficio. No, adesso ci divertiamo. Grazie di essere venuto, Fiumel. Vai pure a casa se vuoi, vai a riposare. Ma se non le dispiace aspetto che ritorno. Ah sì? Beh, come vuoi, come vuoi. Adesso andiamo al consiglio di guerra dei nostri cervelloni. Siedi, eh? Fatti un piedolino. Grazie. Non serve sorvegliare tutti gli uffici finanziari di Parigi. Basterà sorvegliare quelli di questa zona, Champs-Élysées. Ma perché quelli e non altri? Perché è qui che i banditi tenteranno il prossimo colpo. Perché è qui che è stato visto Fernand, il loro cato. Ma potrebbe esserci andato per cento altre ragioni, non so. Fernand non è tanto stupido da farsi vedere proprio dove ha intenzione di fare il colpo. E secondo lei che ci sarebbe andato a fare? Non so, un appuntamento con la sua donna, a farsi visitare dal suo dentista, che sta appunto da quelle parti. A comprarsi un paio di scarpe al Bazar Universal, che sta appunto lì dietro. E perché no? Ecco, sa, signor sostituto, questa è un'intuizione intelligente. Prego. No, le dico le scarpe, le dico la sostituzione del signor sostituto. Potrebbe essere proprio questa la ragione che ha spinto Fernand a capitare in quella zona. Che ha un piede, è un piede un po' difettoso. Infatti non trova mai scarpe che non gli facciano male. E il Bazar Universal è famoso per il reparto calzature. È la più grande scelta. Interessante. Non parlerà mica sul serio, Maigret. Ci dica piuttosto le sue obiezioni. Lei non crede che i banditi tenteranno il prossimo colpo in quella zona? No. Ma anche ammettendolo, dove li pigliamo noi gli uomini per sorvegliare tutti gli uffici e le banche di quella zona? Più che ai suoi uomini, l'operazione è affidata ai servizi d'ordine pubblico. Sono ben tre compagnie. Sì, ma sono in uniforme. E con ciò? No, no, ma è assurdo. Andiamo, signor sostituto. I banditi si accorgerebbero della trappola a prima vista, rinuncerebbero al colpo e ci scapperebbero tra le mani. Noi dobbiamo arrestarli, non solo impedire il colpo. Io non darò mai un simile ordine. Basta che lo esegua, signor commissario. L'ordine è già stato dato. Ai miei reparti? Ai suoi reparti e a quelli che con lei dovranno collaborare. E chi lo ha dato? Beh, il suo direttore. Deve capire. Capisco. Ho capito tutto. L'operazione è cominciata, signor commissario. Sarà bene che raggiunga i suoi uomini. Sia un procuratore, signor sostituto. Ah, signor direttore, ricordo male che ieri lei mi aveva detto che voleva dare le dimissioni, eh? Quanti dei nostri uomini parteciperanno a questa spedizione di caccia grossa? 42. Le ne rimangono 14 per il servizio interno, eh? No, ma di cui solo 9, però, sono disponibili. 300 uomini bloccati ai Champs-Élysées solamente perché il signor sostituto ha avuto la rivelazione che qui, qui avverrà il colpo, eh? E me ne rimangono 9 per sorvegliare tutto il resto di Parigi. Ehi, guardami, dove li sguinzagli? Le metterò uno qui, uno lì, uno qua, uno qui, uno qui, ecco. A posto. Capo. Un informatore ha telefonato di aver visto la donna di Fernand in un bar dei mercati generali. e Fernand, invece, si è fatto vedere in una zona dei Champs-Élysées che Fernand voglia metterci su una falsa pista. Beh, vedremo chi scoverà la lepre, se noi o il signor sostituto. la puoi, prendi i nove uomini e batti la zona dei mercati generali, intesi che siano tutti in borghese, però. Ci penso io. Capo. Non so, mi pare che seguire la pista della donna di Fernand può essere sbagliato. Ecco, non so, mi pare rischioso, ecco. Ah, beh, certo che... un rischio c'è. Beh, ammetterai che è strano che questa donna vada in un bar ai mercati generali a 20 km dal centro di Parigi. Cosa si va a fare? Cosa si... Eh? Non so, cosa si va a fare? Io cosa devo fare, Capo? Tu rimani al centralino per i collegamenti. Ah, occupati dei testimoni della rapina. Se riconoscono il vestito di Guandé, fatene fare delle fotografie da Merse, però una serie a colori. A colori? Sì, a colori, a colori! E screppi l'avarizia! A colori. Oh. E adesso a noi. Sai quando fanno l'autopsia? Domani pomeriggio. Mm. E... E per il rapporto? Come? Devo proprio scriverlo io? Eh, beh, ecco, il sostituto ha affidato a te le indagini perché ve lo domandi, scusa. Ma sa, commissario, sa che fatica faccio a scrivere? E poi finché si tratta di un rapporto al mio commissario, passi, ma al signor procuratore... A me, a me, ma scrivi come ti viene. Non preoccuparti. Cento pagine di quegli in brattacarte non hanno la sostanza di una relazione fatta da uno come te che conosce le cose e soprattutto gli uomini. Scrivilo, poi magari lo rivediamo insieme. Ah, grazie. Grazie, commissario. Luca? Sì, capo. Senti, Luca, ti chiamerò da fuori per le novità. Vado a casa quando è. Ma, eh, se il procuratore la cerca. Vabbè, dì che sono andato a bere un valonti che non so sono andato a fare un bagno. Ma, insomma, dico allo che ti pare. Ma in fin dei conti mica possono impedirmi di occuparmi di uno che conoscevo da anni e che era quasi un amico in fin dei conti, no? Ma perché vuole sapere tutte queste cose? Cos'ha ancora contro mio figlio? E perché non si siede? Va, Totò, va. È il cane di un re. Lo ha raccolto per la strada tanti anni fa. Aveva due zampe rotte ma mio figlio lo ha guarito, sì? con due stecche di legno e la sua pazienza. E adesso cosa vuole ancora da un re? Non lo ha già visto ieri? Qui non c'è, guardi pure. È ripartito per uno dei suoi soliti viaggi. Non lo sto cercando, signora, quando volevo soltanto sapere se non gli sta dando la caccia. gli è successo qualcosa. Ma allora? Suo figlio è morto, signora, quando è? Ho voluto comunicarglielo io. o chi è stato? Ha sofferto? no, non ha sofferto. Il suo corpo è stato trovato stanotte al Boat Boulogne. Al Boat Boulogne? Sì, l'hanno trovato lì. È stato ucciso altrove, poi l'hanno trasportato lì con una macchina. Ma allora? Come fa a dire che non ha sofferto? E perché? Perché l'hanno fatto? è quello che ci chiediamo anche noi, signora, quando è? Ed è per scoprirlo che ho bisogno del suo aiuto. Lei ieri quando l'ha visto per l'ultima volta? Aveva mangiato con me. Proprio buono il Boat Boulogne, mamma. Potresti averlo tutti i giorni se te ne stessi a casa tua invece di girare la Francia come un animo in pena. Tra qualche tempo. Chissà. E' quasi l'una bisogna che vada. Finirò di sistemare la corrispondenza in treno stasera in albergo. Conti di star via molto stavolta? Non lo so, mamma. una settimana, dieci giorni, non lo so. Ah, ti lascio quindici mila franchi, ti bastano? Che me ne faccio di tanti soldi? Ho ancora duemila franchi dell'ultima volta. Tante volte dovessi parlare. di tanti soldi, mi pare che sia tutto a posto. Ciao, mamma. Non ti fai nemmeno un pisolino nella tua portrota? no, è tardi. Via, totò, di tenermela bella calda. A presto, mamma. E questa? ah, già, hai ragione. Ci ho lavorato tanto su e me la dimenticavo. Da allora non l'ho più visto. e di Fernand veramente non sa niente? Ma perché insiste così? Gliel'ho detto. Onore non parla mai del suo lavoro. Questo Fernand io l'ho sentito nominare per la prima volta ieri. Da lei. Mi scusi, signora, quando e di qualunque cosa abbia bisogno si rivolga a me o al brigadiere Fimmel? No. Non ho bisogno di niente. Se poi venisse a sapere dove suo figlio ha passato queste ultime settimane... Chi me lo dovrebbe dire? io... io avevo simpatia però non ho re. capo, ho fatto vedere agli impiegati dell'ufficio postale le fotografie del vestito di Guandè. a colori a colori beh c'è un'impiegata che dice di essere certissima che quello è proprio il vestito di uno dei banditi si ma è la stessa che subito dopo il fatto quando l'abbiamo interrogata ha detto che non ricordava nulla per la paura questo non è attendibile gli altri? beh permette beh molti impiegati sono ancora sotto shock che pigiano fischi per fiaschi di contrailcone gli altri quelli che sembrano più lucidi si che hanno conservato la calma dicono che potrebbe essere quello il vestito di uno dei rapinatori ma se gli chiedo di giurarlo dicono che non se la sentono e della caccia grossa del signor sostituto? ah da quella parte tutto tace niente di nuovo tanto più visto Fernand? no 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 nessuna notizia da ieri senti fai una cosa vai in archivio e fatti dare una fotografia di quand'è e danno una copia a tutti gli uomini che stanno cercando Fernand soprattutto a quelli incaricati di fare il giro dei bistrò delle bettole delle pensioni quelli lì eh ah ha saputo qualcosa di nuovo di quando è? beh ieri alle 12 e 30 ha lasciato la madre ah e alle 13 e un quarto ha partecipato alla rapina è chiaro? non saltare subito le conclusioni come è tua abitudine fai quello che ti dico su posso entrare? si capo avanti avanti ci sei anche tu? Aristine come va? ben dietro di nuovo? beh sembrerà ridicolo ma non siamo riusciti a ricavare altro da tutto quello che avevi indosso nient'altro che nient'altro che nient'altro che questi tre peli li abbiamo trovati esaminando il vestito con la lente al microscopio risulterebbero peli di gatto selvatico si ma in in quale parte c'è il vestito? sulla giacca vicino alla spalla sinistra ci sono anche lievi tracce di cipria stiamo cercando la marca saranno peli di una pelliccia ma ho telefonato a parecchi pellicciai e pare non ne facciano più pellicce di gatto selvatico una volta le portavano i gran signori per l'automobile ma adesso in tutta Parigi se ne faranno sì e no dieci in un anno e come coperte da viaggio questo è tutto quanto le posso dire vabbè meglio che niente ma la ringrazio molto per tanto poco commissario arrivederci cari ecco tante cose no da questa parte da questa parte venga venga attenta alle scale perché sono un po' agente ecco compagno al signore giù all'ascensore oh bene dunque siamo riusciti a rintracciare per non solo perché sapevamo che beve dei pancia al mandarino e cacao e questi peletti potrebbero appartenere alla pelliccia di una donna che ha aiutato a trasportare il cadavere di Guandè ma chi porta più una pelliccia di gatto sai cosa devi fare più meno prendi questi peli e cerchi in tutti i garage eh e poi ah già ma tu tu eri venuto per il tuo rapporto eh sentiamolo vai iniziamo grazie allora dunque il sottoscritto brigadiere Aristide Schumel qui presente no proprio è meglio no è meglio fare si deve qui presente ecco sarà fuori di passione di una professione di un panso a dare ecco no qui io non ho più hai già finito stasera beata te stasera è flicca non ci lasciano in pace su buba comunque con il freddo che fa si sta meglio sotto le coperte voilà si vede che stasera hai guadagnato abbastanza per me invece è serata no è proprio serata no senti figurati che è arrivato uno che sapeva di vedovo ah ti giuro che sapeva proprio di vedovo fra l'altro si era messo anche un vestito nero non che questa abbia importanza comunque ti saluto te la lascio ci vediamo notte notte Chi ora è? E' due, signor Gustavo. Già, l'ora della ritirata. Come mai c'è ancora la chiave del signor Richard? Non è rientrato? Ma che, deve essere partito ieri notte, prima ancora che mia moglie s'alzasse. La mattina, infatti, non ce l'ha già più. Accidenti. Come mai tanto dispiacere? Ci faceva un pensierino, per caso, sul signor Richard? Ma che dice, signor Gustavo? Che gli avevo dato il mio orologio da riparare. Allora, inate paura. Non è la prima volta che si assenta così. Sarà andato a trovare qualche zietta in provincia. Beh, buonanotte, signor Gustavo. Notte, signorina. Niente di nuovo? Tutto in regola, generale. Ecco i registri. No, no, lascia perdere Gustavo. Di te mi fido. Non vedo l'ora di andare a nanna. Sogni d'oro, colonnello. Spotti, spotti tu. Eh. Grazie. 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 Fernand, hai detto. Hanno visto Fernand lì? Ieri sera. Ah, beh, tu resta lì, eh? Resta lì di posto con Mettier. Piazza gli altri davanti alle filiali vicine. L'hai già fatto? Ah, bravo. Bravo. Bravo la puoi. Adesso arrivo anch'io. Sì. Ma che fai? Ah, tutte le notti è così adesso. Ma ti torna a letto? Sì, sì, adesso... E spegni la luce. Allora, no, no, la puoi. Verrò più tardi. Ma vuoi in campana, eh? Non riattaccare. Aspetta, aspetta l'apparecchio, non riattaccare. Non riattaccare. È così. Natori. Non riattaccare. La puoi? La puoi? La puoi? Che idiota! L'ha riattaccato. Beato lei, ispettore, che ha lo stomaco buono. Zuppa di cipolle a quest'ora. Io neanche a vent'anni avrei potuto. Tu sei cittadino. Io invece vengo dalla campagna, come il capo. Ne abbiamo mangiate con lui all'alba di zuppe di cipolla. E inghiottite di birre calvadosse e vini bianchi, eh? Eh, già. A proposito, i vini bianchi. Mia moglie mi si è raccomandata di portargli il pesce fresco. I pesci li vendono dall'altra parte. Lo so. Vado? Vado e tu? Sai, se non glielo porto, poi sono guai. No, tu intanto non perdere di vista l'agenzia, eh? No. Vado. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.